Ciao ladies, benvenuti in un nuovo video! Io sono Eleonora e oggi andrò a provare insieme a voi dei vestiti dalla collezione che ha realizzato Julia Delellis assieme a Pull&Bear. È arrivato il pacco in pochissimo tempo, io ho fatto l'ordine online anche se devo dire che in questi giorni sono passata in negozio e ho visto alcune cose della collezione anche in negozio. Sono iper curiosa di vedere i prodotti dal vivo quindi i vestiti, i materiali, i colori e tutto... I miei capelli? I colori, i tessuti, i materiali e tutto quanto e di vedere ovviamente anche come stanno su di me. Io e Julia Delellis abbiamo una fisicità completamente diversa e differente. Io credo di essere una forma a pera. Le pere come me hanno una forma un po' a pera quindi sono più grande nella parte inferiore del corpo. Non so esattamente, Julia, che frutto sia però non penso proprio sia una pera. Indosso pochissimo, pochissimo le gonne. Gonne tipo minigonne perché non mi stanno bene però in questa collezione ce ne sono e ho detto vabbè proviamole anche perché erano all'interno di alcuni completi quindi vediamo. Ho preso delle cose, ho preso quasi tutto quanto quello che ho visto sul sito. Andiamo subito ad aprire la busta. È proprio un bustone. Prima di aprire il bustone mi raccomando controllate di essere iscritti al canale e se ancora non avete fatto questa scelta oggi mi sembra il giorno giusto. E adesso scartiamo. Ok, ho già intravisto dei materiali e sono completamente diversi da come mi aspettavo. Ok, questo dovrebbe far parte del ramo di Pull&Bear Un-Catalogged. Questo prodotto è fatto di materiali riciclati perché non ho capito se è la busta o il prodotto. Ho deciso di aprire subito quello che era in questa busta bianca a parte e sono i pantaloni. Allora, questi venivano così vi dico anche tutti quanti i prezzi e le taglie. 19,99€ e io ho preso una XL perché appunto sono abbastanza grande nella parte inferiore. Mi è capitato recentemente di prendere un paio di pantaloni L io facendovi anche i gesti da Pull&Bear l'avevo preso su Zalando c'è anche il try on haul se volete vedere anzi, quelli non li indossavo perché mi stavano molto piccoli quindi a seconda di vari negozi io ho diverse taglie quindi ho detto se quelli erano L di Pull e mi stavano piccoli prendo l'XL e via quindi spero mi stiano. Questi pantaloni indossati su Giulia mi piacevano tanto perché hanno un tessuto diciamo che è un po' elegante non è né un jeans né un... non ha nulla di sportivo va a cadermi con un po' una zampina sì non so se è wide leg o non so quanto si apre sul fondo capito quanto ha l'effetto zampa ma sembra molto poco sono neri e hanno la particolarità di avere questa vita con il cut out quindi diciamo che ha una V su un fianco e sull'altro sia da davanti che dietro particolari non è detto che mi stiano benissimo quindi io direi di andare subito a vedere come mi stanno e per ogni vestito poi io darò un voto di secondo me come mi sta ma ditemi anche voi come mi sembra e come mi sta scrivendo magari uno e quante stelle date due eccetera eccetera io vi faccio vedere anche come è su Giulia non fate paragoni per favore però vabbè cosa andiamo a mettere sopra il pantalone io ho visto che lei metteva un gilet che però non mi piaceva per nulla non penso proprio l'avrei mai messo nella mia vita e quindi non ho preso quello lì però ho preso altre due cose che potrebbero star bene sopra questi pantaloni questa è la prima cosa questa è stata riprezzata c'è scritto 17,99 ma vedo che sotto c'era un 19,99 ho preso una L le taglie sono dalla XS alla XL non so se per tutte le cose però finora sì e questa qui è una camicina bianca io non indosso spesso le camicie però quando lo faccio penso che siano carine e mi stiano abbastanza bene e questa qui è quella che ho preso di questa collezione colletto molto classico elastico in vita solo nella parte davanti questo qui che va a fare un giro sulla vita e si allaccia anche la manica è molto classica sto pensando forse con i pantaloni che hanno già questa cosa particolare in vita andare a fare altri giri potrebbe essere troppo soprattutto per chi ha un busto corto io non avrò un busto molto corto ho delle gambe corte quindi forse potrebbe andare vediamo comunque come mi sta anche lei allora a parte che mi sembra un po' too much tutto ciò cioè insieme non mi piace mi sento anche un po' cameriera non saprei ma anche in generale su un pantalone nero così classico mi sembra troppo linguino come mi sta invece penso penso bene cioè la taglia penso giusta qui comunque avendo l'elastico è morbido e non tira qui per evitare l'effetto insomma un po' codichino lo mettete voi lento o meno non mi piace con questi pantaloni darei tre stelle e mezzo su cinque a questa camicia perché è particolare è carina non tira mi sembra mi sembra carina oddio ma l'ho fatto un casino vabbè soltanto che non so se tenerlo a fare reso perché non so veramente cosa metterci sotto quindi consigliatemi magari datemi delle idee di cosa potrei metterci sotto essendo qui abbastanza larga secondo me serve qualcosa di più stretto però non so che cosa la seduta probabilmente non farà un bellissimo effetto però beh amen che ne dite a proposito dei pantaloni la taglia è quella è perfetta qui non non stringe ha questa diciamo particolarità che poi non è neanche esagerata cioè non è proprio come posso dire così non ci sta nemmeno mentre camminate è proprio una cosa sottile e quindi vabbè dai sicuramente non è elegante però comunque ha un suo perché e voglio farvi vedere sono molto lunghi sono molto lunghi infatti io non posso indossarli con scarpe da ginnastica probabilmente dovrei cioè dovrei metterci dei tacchi non so bene ecco cioè guardate quanto tantissimo molto molto lunghi dovevo togliere la ciabatta perché se no c'è andato sotto quindi o li faccio stringere perché cioè guardate qua cioè non mi siedono i piedi praticamente l'effetto è bello questi saranno 10 cm giusto così per prenderli ad esempio per proprio capire che vanno anche sotto questi quindi meglio ma comunque mi vado a camminare sopra letteralmente quindi boh non vorrei sbilanciarmi però gli do 4 stelle perché mi sono proprio piaciuti peccato proprio questa cosa che sono veramente lunghi per me cioè probabilmente le nuove generazioni hanno delle gambe lunghissime altra cosa che ho preso è questa camicia che anche qui vedo che sotto aveva un altro prezzo cioè si vede proprio vedete 25,99 ma adesso 19,99 boh io spero di averla pagata 19,99 magari controllerò di questa qui c'è dalla XS alla L e infatti ho preso la M questa veste abbastanza grande in teoria ho visto la foto e con la foto mi diceva anche che taglia stava indossando Giulia o la modella e Giulia indossava non so se è una S o una M però mi sembrava molto molto loose come si dice allora questo qui non so se è raso sicuramente per il prezzo non è seta ha quell'effetto un po' vedete seta raso è una camicetta non è lunghissima ma non è neanche corta ha le maniche abbastanza particolari perché mi sembrano molto molto larghe e comode e poi si vanno a restringere sul polsino vediamo anche questa come sta forse è la cosa che mi piace meno indossata mi direte anche voi come la vedete l'ho aperta un po' perché è tutta accollata non mi piace il vibe che dà cioè è troppo seriosa scura non mi ci vedo capisco che si è stata fatta loose cioè è un po' larga però veramente tanto cioè forse mi fa un po' un po' troppo grossa col fatto che anche crop la posso mettere dentro solo cose a vita veramente alta non penso di averne aspettate che abbasso un po' la luminosità un po' meglio che vibe vi dà non lo so per me forse è un po' troppo seriosa sta molto bene oggi con il rossetto però forse si con una bella collana luminosa cercando di ho anche bracciali anelli cercando di far risplendere sicuramente non con pantalone nero perché sennò troppo troppo triste come look e però mi piace così cioè dentro un pantalone due stelle e mezzo perché forse due quella che mi è piaciuta di meno cioè se la devo vedere così non mi piace cioè vedo proprio che qua mi diciamo mi fa una vita molto più grossa della mia e non mi piace perché ovviamente rimane dove sta il seno dritta para beh ovviamente è materiale no così già più carina però capito essendo crop così la posso mettere solo su cose veramente a vita molto alta quindi ci sto pensando su questa se fare il reso o meno fatemi sapere così con i pantaloni per me questo peggior outfit di tutto il video o scena mi sento tipo dieci anni in più sta cosa o la metto dentro o la vedo indietro proprio mi metterò dentro pure questa è vita alta però esce abbiamo poi dei set io ero molto indecisa ho pensato di prendere un po' cose che fossero abbinabili tra loro per creare degli outfit ero molto indecisa però se prendere questo qui che è l'outfit più sportivo per un po' di motivi uno non so quanto mi poteva piacere dal vivo questa trama questa fantasia perché non è una trama è una fantasia qua sto vedendo qualcosa di strano vedete però è rovinato questa qui 17,99 è la felpa che ho preso nella taglia L questa anche da XSXL a vederla così dal vivo non mi piace neanche la trama perché ha una trama non so dirvi che tipologia sia però cerco di fare un close up per farvi vedere che vedete il tessuto non è liscio è un po' particolare e io ho un accappatoio che ha questa trama un po' quadrettata più grossa quindi boh ha quell'effetto un po' tie dye no? che sembra che abbia stinto del colore però non mi dispiaceva il fatto che il colore preponderante fosse questo rosa antico non mi dispiace tipo rosa giallino e celestino qui devo dire che devo vedere veramente indossati degli shorts ho preso la XL 12,99 euro non lo so anche qui non so bene che cosa pensare la felpa non vi ho detto le specifiche ma cappuccio ed è praticamente cropped onestamente qua si gioca tutto l'indossato questa è la felpa indossata spero non dia fastidio la trama in camera stamattina ero in una chiamata zoom e si vedeva tutta sapete come se in televisione indossano i quadretti o le righe ecco così fatemi sapere se voi la vedete bene questo è un cappuccio in realtà il sopra non è neanche malissimo e non è così cropped come pensavo è corta ma non cortissima questi sono aspettate ce l'ho anche da vicino questi sono i pantaloni li ho beh lacciati adesso e hanno le tasche cosa che non avevo notato boh non lo so meglio di come pensavo però penso sia una felpa carina che indossata in realtà con qualsiasi pantalone sotto non per forza questo cioè non so quanto sia meglio tenere il completo rispetto a tenere solo la felpa se dovessi dare comunque un un voto generale da una 5 stelle al completo meglio di quello che pensavo ma cosa è solo un po' bruttino ma è quel bruttino che poi alla fine l'uomo è piaciuto quindi 3 stelle 3 stelle mi sembra un buon compromesso perché comunque c'è di molto meglio però normale ultimo set che ho preso è stato l'azzardo pensavo di aver preso anche un'altra gonna evidentemente no questo è stato quello che appena ho guardato dentro la la busta mi mi ha fatto strano perché non mi aspettavo questo tipo di materiale è molto più leggero di quello che pensavo soprattutto il top mi aspettavo qualcosa di più strutturato ok la gonna è corta la gonna è veramente corta il pezzo di sopra 17,99 sono tutti riprezzati più bassi comunque e anche qui se alzo c'era un 19,99 ho preso un M arrivava anche questo da XS a L perciò ho preso M e mi piace idealmente sapete che sono in questo mio periodo un po' lilla quindi c'è tanto lilla c'è tanto verde mi piacciono tutti e due questi colori ha uno scolla V infatti devo vedere un attimo che reggiseno metterci oh ok eccolo qui e poi mi piaceva perché aveva tutta questa manichetta un po' così la che si fa riprendere alla fine si va a stringere con l'elastico e anche l'elastico in vita vedete un po' un elastico da fine anni 90 primi 2000 mi piaceva infatti vediamo poi come mi sta non è detto che non la terrò di sotto ho preso l'XL perché arrivava fino all'XL 17,99 è una gonna che ha la zip per chiudersi lateralmente sento che non ha minimamente elasticità ma proprio zero ha questo dettaglio di cui non ci ho fatto tantissimo caso sul sito perché sia questa è nell'argento ma anche qui un cut out quindi un taglio una zona che rimane aperta dove si vede oddio probabilmente qui spero non si veda la mutanda però comunque si vede corpo e questa è la gonna per me cioè io sono sicura che per me sia corta spero non sia qualcosa di vietato a meno di 18 e che io possa comunque indossarla per vedere come sta ma non garantisco nulla potrei anche non riuscire a mostrarvela allora parliamo di questo completino che è diventato un po' osè perché praticamente mi sono accorta che ha un punto dove dovrebbe avere da un lato un bottoncino che però si è staccato ma non sono stata io era già così è un completino che non pensavo mi potesse piacere non pensavo mi stesse bene ho alzato la manica in modo tale da tenerla più su diciamo altezza comito in modo tale poi da farla scendere e avere questo effetto così molto carino è un completino molto primaverile ha questa cosa di lato che non capisco tantissimo cioè non so se doveva stare più così al corpo gusto personale forse darei due stelle però Nicola ha detto a Nicola non piacciono le conne e mi ha detto che gli piace tantissimo questa conne e come mi sta cioè come sta su di me corta pensavo fosse troppo corta boh che dite e normalmente quindi la terrei un po' più chiusa qui e un po' più giù quindi con un pezzettino così di fuori ma non tanto come l'ho indossata fino ad adesso quindi così è come la terrei che dite tengo ho reso come voto avrei dato anche quasi 4 stelle perché mi ha sorpresa ma con il fatto che l'ho trovata rotto penso 3 stelle oh no ma what the fuck no la gonna ancora dice 17,99 anche la felpa 17,99 c'è scritto ma io l'ho pagata 19,99 vediamo camicia pantaloni però poi gli shorts li ho pagati 12,99 come c'è scritto qui e sotto invece c'è scritto 14,99 quindi questi li ho pagati di meno come effettivamente poi c'è scritto sul cartellino bah un po' random questa cosa sinceramente e boh cioè se adesso vado sul sito quanto costa eh no sul sito costa ancora 19,99 vabbè se siete arrivati fin qui vi ringrazio tantissimo andrò a guardare tutti quanti i commenti per capire cosa rendere e cosa tenere nel frattempo come sempre vi aspetto su instagram e tiktok e noi ci vediamo al prossimo video bye ladies see you soon ciao ciao ciao